ciao amici bentornati su festecompleani.com io sono il vostro mister nani oggi vedremo insieme come realizzare una scultura veramente speciale ma allo stesso tempo molto 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 semplice la potete usare nelle vostre feste o per far giocare i bambini a casa vostra di cosa si tratta del topolino salterino in un minuto riusciremo a fare una delle sculture più divertenti il topolino salterino ci serve un palloncino di questa lunghezza lo prendiamo dalla parte del nodo facciamo una pallina con la torsione semplice per fare il musetto dopodiché faremo altre due salsicce della larghezza di quattro dita per fare le orecchie le fissiamo tra di loro dietro il musetto per fare le orecchie del topolino ci basterà schiacciare le due salsicce e fissarle tra di loro con la torsione semplice ecco qui il vostro topolino è pronto come potete vedere sono bastati pochissimi secondi e un solo palloncino vi ricordo che sul nostro canale youtube feste compleanni potete trovare tantissime altre sculture di livello facile per voi che volete iniziare a fare le sculture con i palloncini dovete cercare nelle playlist quella con scritto sculture facili un palloncino amici per oggi è tutto un saluto dal vostro mister nani e dal topolino salterino ciao 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 ciao